Nell'ultima legge di bilancio italiana si parla di frontalieri. In questo webinar risponderemo a tutte le domande dei frontalieri riguardo questo contributo che i vecchi frontalieri dovranno pagare per sostenere la sanità italiana. Ne parliamo con Andrea Puglia, responsabile dell'ufficio frontalieri del sindacato OCST. Sì, confermo che la legge di bilancio ha nascosto tra le righe una bruttissima sorpresa per noi frontalieri, tengo a specificare noi frontalieri perché sono frontalieri anch'io, quindi rischio di essere toccato anch'io da questa norma e più in generale confermo che sono anni molto impegnativi sul fronte dei frontalieri. Allora ti interrompo un attimo perché appunto prima di iniziare volevo un secondo velocissimo per chi non ci conoscesse spiegare che cos'è cambiavalute.ch. cambiavalute.ch è il sito che consente di cambiare il proprio stipendio da franchi svizzeri in euro e volendo anche viceversa al tasso migliore della Svizzera. Sito molto comodo, molto immediato, con una bellissima user experience. Se non ci conoscete provatelo perché oltre ad avere un tasso molto molto vantaggioso è anche davvero comodo poter fare tutto online visto che si saltano le code, non si deve cercare parcheggio, non si sono i rischi di maneggiare il contante. Tra l'altro se siete nuovi clienti e fate il vostro primo cambio entro il 31 di gennaio vi regaliamo anche la vignetta per andare in autostrada. Se invece siete già clienti vi ricordo che all'interno della vostra area riservata trovate il tasto invita i tuoi amici che è possibile appunto mandare uno speciale codice anche tramite Whatsapp ai vostri contatti e questo vi permette qualora i vostri amici diventassero clienti di guadagnare 25 euro a persona presentata. Ecco qua, piccola marchettata, torniamo su Andrea. Andrea raccontaci cosa è successo, cosa è stato infilato in questa legge di bilancio. Nella finanziaria 2024 che è stata discussa tra novembre e dicembre del 2023 il governo italiano come noto ha ben pensato di introdurre in modo unilaterale quindi senza parlarne prima con la Svizzera men che meno senza parlarne con i rappresentanti dei lavoratori frontalieri come possiamo essere noi appunto di introdurre un contributo per poter continuare a avere diritto all'assistenza sanitaria italiana un contributo che si applicherà secondo le visioni del governo ai cosiddetti vecchi frontalieri dei comuni di confine cioè a tutti quei soggetti che grazie all'intervento del sindacato continueranno a pagare le imposte sul reddito unicamente in Svizzera peccato appunto che poi l'Italia senza aver detto nulla a nessuno in finanziaria di fatto ha infilato un'imposta indiretta sui redditi dei vecchi frontalieri nella finanziaria il governo ha pensato di introdurre questa imposta inizialmente il governo aveva pensato di introdurre un'imposta che addirittura poteva arrivare fino al 6% del reddito netto annuo poi tramite degli emendamenti si è riusciti perlomeno a far abbassare le cifre per cui l'importo potrà essere tra i 30 e i 200 euro mensili poi vedremo più avanti esattamente come potrà funzionare il tutto ok ok quindi insomma una mossa un pochettino possiamo dire che è un po' sporca perché si era detto che i vecchi frontalieri non potevano rimanere com'era poi in verità c'è questa mossa che effettivamente va in qualche modo ad intaccare in verità quello che poi sono i soldi percepiti appunto dai frontalieri bene Filippo se vuoi aggiungere anche te qualcosa andiamo un po' nel concreto allora Andrea io che mi sono un po' informato ho letto varie fonti e si dice che questa tassa, questo contributo indiretto questa spesa di compartecipazione chiamala come vuoi andrà a finanziare il servizio sanitario nazionale nelle regioni di frontiera quindi in particolare aumenterà quelle che sono le prestazioni del servizio sanitario nazionale e lo stipendio fino a un massimo del 20% della RAL di infermieri e medici ora è così, cioè sarà proprio così oppure no? è che è già cambiato qualcosa nel frattempo? e poi domanda mia che mi è venuta mia pensando ma può per legge, cioè almeno formalmente, un privato finanziare lo stipendio di un altro privato? inizio da quest'ultima domanda, io ho i miei forti dubbi che questo possa essere costituzionale e che questo possa essere possibile motivo per cui lo dico fin da subito come sindacato, unitamente anche agli altri sindacati, pure quelli italiani stiamo approfondendo il contenuto di tale norma per capire se davvero è costituzionale oppure no qualora ci fosse anche un minimo spiraglio e sentore di anticostituzionalità non esiteremo a fare dei ricorsi individuali in causa collettiva questo lo specifico fin da subito dopodiché sì, nella legge è già specificato che questi soldi dovrebbero servire per innalzare gli stipendi del personale medico di frontiera con l'auspicio che si augura al governo di frenare la diaspora di questa mano d'opera che fugge dall'Italia e va verso la Svizzera ma questo è veramente un volo pindarico perché chiunque conosce un po' il mercato del lavoro sa che anche alzando di 200 euro gli stipendi dell'infermiere di Como per fare un esempio sicuramente l'offerta di lavoro che questo soggetto potrà ricevere dalla Svizzera continuerà a essere più appetibile anche magari ricadendo nel nuovo sistema di tassazione quindi come nuovo frontaliere per cui è una misura non solo a nostro avviso anticostituzionale ma che non avrà nemmeno chissà quali effetti concreti anche perché qui apro e chiudo velocemente una parentesi l'idea del governo è prendo i soldi dei vecchi frontalieri quindi faccio i conti in tasca a queste persone questi soldi li utilizzo per finanziare altri professionisti peccato che i vecchi frontalieri ogni anno diminuiranno per numero non è una categoria che si alimenterà nel tempo ma che andrà ad esaurirsi nel tempo e quindi anche qualora questa misura fosse attuabile sarebbe a scadenza perché come fai a rifinanziare la norma se i vecchi frontalieri diminuiscono? ecco è molto interessante in pratica stanno cercando di fare quello che tanti anni fa fecero un po' con la benzina in quel caso abbassarono il prezzo della benzina in Italia qui cercano di alzare gli stipendi in Italia sicuramente l'idea è anche valida però presenta tanti problemi un'altra domanda subito per andare un po' al dunque che ci fanno anche dalla chat quanto sarà questa trattenuta? cosa sappiamo proprio sui numeri in questo momento? ecco mi permetto di aggiungere Andrea chi la calcola? chi la riscuote? e come si paga? nel senso come si andrà a pagare? ecco sono tutte domande che ad oggi non hanno ancora una risposta dettagliata che meraviglia quello che ad oggi si sa che è veramente poco allora la legge nazionale per cui appunto la finanziaria ha semplicemente scritto il vecchio frontaliere lo traduco già dal giuridichese ok? il vecchio frontaliere dovrà pagare ogni anno alla propria regione quindi probabilmente sarà la regione a riscuotere questo contributo appunto dovrà pagare un contributo che sarà tra il 3 e il 6% del reddito netto annuo ma con un importo minimo di 30 euro mensile e un importo massimo di 200 euro mensile sarà poi compito però delle regioni di confine quindi prevalentemente Lombardia e Piemonte nel corso del 2024 a fare una legge regionale per definire esattamente gli importi che dovranno essere dentro questo range ma poi va definito chi pagherà 30, chi pagherà 35, chi pagherà 40, chi pagherà 200 per cui immaginiamo verranno fissate delle fasce di reddito le stesse regioni dovranno anche decidere le modalità operative quindi come identificare anzitutto i vecchi frontalieri come chiedere a loro di certificare il salario in quale ufficio virtuale o fisico dovrò andare io vecchio frontaliere per annunciarmi e per pagare questo contributo ecco tutti questi elementi sempre che la norma non crolli prima per dei ricorsi verranno definiti dalle regioni e qua vi anticipo due tecnicismi che fanno abbastanza sorridere nell'unico incontro assolutamente informale che abbiamo avuto con le autorità nazionali italiane abbiamo fatto notare loro che l'Italia non riceverà dalla Svizzera i dati dei vecchi frontalieri perché nel nuovo accordo tra Italia e Svizzera è previsto lo scambio di dati ma solo per quei frontalieri che dovranno pagare le tasse in Italia cioè i nuovi oppure i fuorifasce e i rientri settimanali sono cascati dal pero cioè quasi non conoscevano i contenuti dello stesso accordo che loro stessi hanno come dire pochi mesi fa ratificato e quindi la regione Lombardia per esempio non riceverà i dati sarà in qualche modo il frontaliere a dover autocertificare il fatto che è un frontaliere vecchio frontaliere e quindi autocertificare i propri dati per l'appunto e questo davvero era un qualcosa che non era noto alle autorità il che fa piuttosto sorridere fa capire con quanta fretta e con quanti pasticci sia stata creata questa norma c'è un po' il sentore che in Italia ci sia un po' una sorta di arraffamento da tutte le parti per cercare di raccogliere denaro possiamo tranquillizzare tutte le persone che hanno figli a carico che sono preoccupati che questa nuova norma vada ad influire pesantemente sul loro reddito il massimo abbiamo detto che dovrebbe essere di 200 euro al mese anche qualora ci fossero figli a carico corretto Andrea? sì a leggere la norma è questo che se ne deduce ok ok tra l'altro Filippo ti ho attivato anche a te le domande perché ce ne sono tantissime così dovresti vederle e mi aiuti anche a smaltirle ecco un'altra curiosità che al governo non sapevano quando mi hanno detto ma scusate ma voi che documento vi aspettate che consegnino i frontalieri per certificare il reddito netto e loro ci hanno risposto il certificato di salario svizzero peccato che anche lì non sapevano che nel certificato di salario rientrano anche gli assegni familiari non c'è nel certificato di salario una riga in cui specificare che nell'importo sono compresi che ne so 2000 euro 2400 euro di assegni familiari ma quelli tu non li puoi toccare in ogni caso se no sì che è pienamente anticostituzionale la norma per cui neanche il certificato di salario andrà bene come documento e nemmeno questo sapevano questo giusto per farvi capire il livello di preparazione delle persone che hanno trattato questa cosa Andrea una domanda così che è appena arrivata in chat giustamente ci chiedono perché in questi giorni ci stanno chiedendo testa sanitaria codice fiscale se poi per i vecchi frontalieri non ci sarà lo scambio di dati qui probabilmente si riferisce al datore di latoro svizzero quando compili il formulario imposta alla fonte allora è molto semplice probabilmente questi datori di lavoro non hanno letto la direttiva numero uno dell'ufficio imposta alla fonte dove viene specificato che nei nuovi questionari dell'imposta alla fonte cioè un questionario che tutti i frontalieri compilano al momento dell'assunzione e poi ricompilano ogni anno quando ci sono dei cambiamenti ecco in questi questionari ora viene chiesto anche il codice fiscale che però nelle istruzioni è ben spiegato serve solo per i nuovi frontalieri oppure per i fuorifascia o i rientri settimanali questo perché questi soggetti pagheranno le tasse anche in Italia nello scambio di dati rientreranno questi stessi soggetti e dovrà rientrare anche il loro codice fiscale ma il pinco ballo di turno che è un vecchio frontaliere può anche non compilare la sezione del codice fiscale perché chiedono la tessera sanitaria perché vogliono verificare il codice fiscale che tu hai inserito che sia corretto non c'entra nulla con la tassa sulla sanità però ripeto questa è una misura che dovrebbero attuare solo i frontalieri tassabili in Italia poi se anche un vecchio frontaliere mette il codice fiscale non succede nulla però teoricamente dovrebbero farlo solo quegli altri sì pagando questa scusate anche perché ultimamente con le carte d'identità nuove quelle formato carta di credito il codice fiscale è già dentro quindi se hanno notato a carte d'identità hanno anche il codice fiscale da tempo ormai domanda pagando questa tassa si potranno detrare le spese mediche ci chiedono in tanti ecco questa è un'altra bella domanda la risposta è no oh how perché e qua arriva la furbata questo passaggio invece l'hanno pensato benissimo chissà perché furbescamente si dice in italiano furbescamente sì vabbè in modo furbo il governo ha pensato di chiamare questo contributo contributo e non tassa perché se io parlo di tasse formalmente le tasse il vecchio frontaliere le deve pagare solo in Svizzera in virtù dell'accordo quindi se io chiamavo questo contributo tassa andavo contro l'accordo fatto con la Svizzera e in più se chiamo questo contributo tassa allora devo garantire non solo la detrazione per le spese mediche ma anche tutte le altre detrazioni ok certo allora l'hanno chiamato contributo eh ecco però è evidente che al di là del termine che usi questa è una tassa ed è uno dei principi su cui vorremmo fare affidamento per capire se è possibile in qualche modo attaccare per via legale questa norma che proprio non ci piace ecco riprendendo i principi su cui attaccare questa norma Andrea una domanda ma prima di tutto non è in qualche modo scorretto calcolare e chiederla sul reddito netto primo secondo qui c'è una signora che ha fatto una domanda che ritengo interessante è imposto ah sì ecco la questione di è imposto anche chi ha optato ad esempio o vuole optare per l'assicurazione in Svizzera cioè a quel punto io posso dire la cassa malati preferisco pagare la cassa malati in Svizzera e quindi rinuncio al servizio sanitario nazionale sì allora vado in ordine in realtà se io voglio proprio introdurre un contributo ha più senso farlo sul reddito netto perché devo farlo sulla base di quello che è il potere economico reale ok del frontaliere se fosse stato sull'ordo sarebbe stato ancora peggio evidentemente mentre per quanto riguarda la cassa malati questo perlomeno è uno dei pochi punti che è ben specificato nella norma cioè nella norma c'è proprio scritto che se un vecchio frontaliere esercita il diritto d'opzione e mantiene la cassa malati in Svizzera quindi decide di affiliarsi al sistema sanitario Svizzero allora non sarà soggetto a questa norma però rispetto a questo passaggio faccio due notabene molto rapidi il primo dobbiamo capire se le casse malati saranno disposte e più in generale se il canton Ticino sarà disposto a far riesercitare il diritto d'opzione a quei frontalieri che tale diritto l'hanno già fatto valere perché tendenzialmente il diritto di opzione viene fatto valere quando richiedi per la prima volta il permesso di lavoro ok il famoso permesso G quindi tendenzialmente i vecchi frontalieri hanno già fatto questo diritto d'opzione secondo mettiamo anche che io possa affiliarmi alla cassa malati svizzera attenzione perché non solo è molto costosa costa di più del 200 euro che questo lo parlo per esperienza costa di più del 200 euro che dovrebbe essere il massimo che si va a pagare in questo caso con questo contributo ma se poi io voglio addirittura far sì che la cassa malati mi copra in Italia costa ancora di più se invece io faccio un prodotto base significa che quando sto male devo andare dal medico di base svizzera banalmente non è molto sensato se vivo in Italia guarda e parlo per esperienza io che sono tirchio e voglio spendere poco addirittura dal medico non ci posso neanche andare devo prima telefonargli così quindi quindi attenzione su questo punto poi la cassa malati lo confermerai non è che funziona che pago il mio premio mensile e non pago più nulla c'è tutto il sistema delle certifiche quindi se pago poco al mese poi ogni prestazione medica che faccio al di sotto di spesa la pago a parte per cui se l'idea è faccio la cassa malati per risparmiare una follia ok certo 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 ascolta Andrea ti faccio un po' di domande pratiche sul lato come si calcola e quanto è il contributo hai già risposto che non si sa bene ancora però per esempio c'è una persona che ci ha chiesto sono separato assegno di mantenimento a mia moglie ho un figlio a carico il mio contributo sarà 200 euro bisogna aspettare a livello a livello regionale ecco noi abbiamo chiesto comunque di essere coinvolti o che perlomeno i sindacati italiani vengano coinvolti nei tavoli regionali dico sindacati italiani perché questo è ancora poco chiaro alle volte a leggere anche certe critiche questa è una norma italiana cioè la Svizzera non c'entra niente anche come il CST il potere di intervento che abbiamo è informale cioè è tirare le giocchette politiche alle istituzioni nulla di più comunque diciamo che i sindacati italiani potranno andare ai tavoli regionali ed evidentemente siamo già d'accordo che chiederanno se proprio si dovrà fare sta norma di istituire delle fasce di reddito quindi ai 200 euro dovrebbero arrivare i più benestanti ok però non si sa nulla di più certo ecco Andrea domanda se qualcuno ha un'assicurazione privata in Italia si può evitare il contributo non si sa abbiamo anche inserito questa richiesta cioè quello che per ora abbiamo fatto oltre che fare degli studi iniziare a fare degli studi per capire se la norma sta in piedi oppure no le altre azioni che abbiamo attuato sono state proprio queste anzitutto di redigere tutta una serie di quesiti di cui le regioni dovranno tenere in conto e uno di questi quesiti è proprio questo però attenzione comunque non basta avere una normale assicurazione privata bisognerebbe avere un'assicurazione che sia del tutto sostitutiva del servizio sanitario nazionale queste assicurazioni sono costosissime certo poi ci permette di saltare le code sia chiaro però anche lì non è una misura che faccio per risparmiare ok e eventuali coniugi entrambi i frontalieri pagano separatamente oppure si calcola il nucleo familiare a leggere la norma sembrerebbe che paghino separatamente ma qui entriamo nell'albero di tutti i casi di rigore come si dice in linguaggio giuridico che non sono per nulla dettagliati e che rendono questa norma ancora più pasticciata faccio solo alcuni esempi cosa accade se entrambi i coniugi appunto sono frontalieri pagano due volte sembrerebbe di sì cosa accade se un vecchio frontaliere ha già in Italia dei redditi tassabili e fini IRPEF e quindi questo soggetto contribuisce già pienamente magari più di tantissimi altri al servizio sanitario se un vecchio frontaliere ha una casa che dà in affitto sull'affitto IRPEF ce la paga con tanto di addizionali se un frontaliere ha anche un contratto di lavoro in Italia già su quel contratto paga l'imposta IRPEF con gli addizionali e questi sono solo alcuni esempi ma ce ne sarebbero più certo e invece Andrea i fuori fascia e i nuovi frontalieri chiaramente invece sono esclusi da tutto questo discorso sì sì sono esclusi perfetto ora questa tua domanda mi fornisce un assist per spiegare un po' meglio vai come nasce il problema e su questo so già di espormi a critiche ripeto sono io il primo che verrà toccato da questa norma per cui parlo guardando anche alle mie tasche è vero ed è innegabile e chiunque conosce un po' la materia potrà confermare che c'è effettivamente un problema nel rapporto tra i vecchi frontalieri e l'assistenza sanitaria nel senso che il servizio sanitario nazionale è gratuito per costituzione eccezione fatta che i ticket però viene alimentato dalle imposte che pagano sui redditi i lavoratori attivi ora tutti coloro che lavorano in Italia alimentano il servizio sanitario la stessa cosa accade per tutti i frontalieri tranne che per i vecchi frontalieri dei comuni di confine i quali sono gli unici soggetti che pagano le imposte solo in Svizzera e continueranno a pagare le imposte solo in Svizzera ma i nuovi frontalieri i fuorifascia i rientri settimanali i frontalieri attivi in Francia Slovenia San Marino Vaticano tutti questi pagano già le tasse sul reddito in Italia e contribuiscono al sistema sanitario il vecchio frontaliere formalmente no ed è così è inutile che cerchiamo di raccontarcela diversamente il problema quindi c'era ma tanto più che dieci anni che se ne parla già nel 2015 se vi ricordate l'Italia aveva provato a inserire una tassa sulla sanità per i frontalieri che poi riuscimmo a bloccare già negli anni novanta esisteva una tassa sulla sanità per i frontalieri dei comuni di confine che poi morì per tutta una serie di ragioni quindi ci sta a discutere del tema è comprensibile quello che non è minimamente comprensibile è come il governo ha pensato di risolvere la cosa peraltro in modo unilaterale introducendo degli importi a caso e totalmente sproporzionati senza dettagliare i casi limite senza discuterne con nessuno questo è il problema se tu Italia volevi regolamentare il tema e ci stava regolamentare il tema lo inserivi nell'accordo con la Svizzera hai avuto 12 anni di tempo per farlo Certo Raffaello si fa notare che in teoria nelle imposte alla fonte dei vecchi frontalieri dovrebbe essere già previsto una quota per il sistema sanitario nazionale Allora su questo bisogna essere estremamente onesti non è così questo i media hanno fatto tanta confusione io provo a spiegarvi in modo neutrale essendo frottaliere come funzionano i ristorni i ristorni in base al vecchio accordo del 74 al nuovo accordo del 2020 vanno ai comuni di confine quindi non finiscono per alimentare il sistema sanitario nazionale e devono essere utilizzati esclusivamente per due ragioni le spese correnti dei comuni e nuove infrastrutture nuove opere ok ed è così quindi non un franco dei ristorni finisce nel sistema sanitario nazionale ora io so già che i più esperti mi citeranno la famosa circolare del 2016 dove invece c'è scritto il contrario di quello che ho appena detto cioè dove c'è scritto che i frontalieri non devono pagare contributi sulla sanità perché esistono già i ristorni ma come tutte le cose anche quella circolare ha una storia e io questa storia la conosco bene perché ero presente nei tavoli di lavoro in cui fu pensata e redatta nel 2015 l'Italia come ho già detto prima pensò di introdurre sempre in modo unilaterale una tassa sulla sanità per i frontalieri ma il 2015 era proprio l'anno in cui era stata confermata parafata si dice una prima versione del nuovo accordo che doveva prevedere la tassazione in Italia di tutti i frontalieri vecchi e nuovi e quindi noi andiamo dal governo a dire ma cosa fai questa tassa sulla sanità oggi che è il 2015 che poi fra poco vuoi tassarci tutti in Italia e quindi quella norma la devi ritirare certo per questa ragione il ministero della salute decise di fare quella famosa circolare dicendo lasciamo stare questo discorso sulla sanità ci facciamo bastare i ristorni ma perché nel progetto del tempo c'era quello di modificare le norme sui ristorni e scrivere che i ristorni fino a quando non sarebbe entrato in vigore il nuovo accordo potevano essere utilizzati in minima parte anche per il servizio sanitario nazionale questa cosa poi non accadde perché come sapete ci mettemmo di mezzo e in anni e anni di discussione si riuscì a ottenere il famoso articolo 9 quindi la crasola di salvaguardia per i vecchi frontadieri peraltro quella circolare fa riferimento all'accordo del 74 che non esiste più per cui non può avere più validità tutto questo ma ci tengo a ribadirlo per la millesima volta non significa che siamo d'accordo con questo scempio significa soltanto che eravamo disposti a discutere del principio ma per trovare una soluzione che fosse molto più sostenibile logica razionale condivisa con la Svizzera certo ecco Emanuele chiede ragionevolmente il contributo sarà effettivamente da versare nel 2024 magari retroattivamente oppure si slitta come succede spesso e si se ne parla magari per il 2025 chiaramente facendo un esercizio perché abbiamo capito che non è chiaro per niente quello che sta succedendo cosa possiamo aspettarci Andrea per quella che è la tua esperienza ma allora ragionando per logica credo che sia impossibile che si arrivi a un versamento prima del 2025 questo perché la norma dice che sarà attiva dal reddito 2024 se tu davvero mi vuoi tassare sul reddito netto mi devi come dire chiedere nel 2025 quanto ho guadagnato nel 2024 chiaro e poi comunque ci vogliono dei tempi pratici per le regioni per ricepire a livello regionale questa norma e definire tutti i dettagli quindi io credo sempre ragionando dell'ipotesi in cui il tutto verrà confermato per Andino ovviamente che comunque si vada fisicamente a pagare per la prima volta nel 2025 chiaro perfetto Filippo hai individuato altre domande? no volevo giusto un piccolo chiarimento perché ne ho vista una dice ma questo questo contributo non è in contrasto con l'accordo entrato in vigore il 17 luglio del 2023 per nuovi e vecchi frontalieri e no perché hai risposto prima correggimi se sbaglio è un contributo non è una tassa esatto è quello che però noi mettiamo in discussione e che giochino un po' con le parole cioè tu lo chiami contributo quindi formalmente non va in contrasto col nuovo accordo ma secondo noi va in contrasto col nuovo accordo e su questo aggiungo che i sindacati svizzeri ma anche associazioni padronali ad esempio Haiti hanno mandato un messaggio al governo svizzero per verificare ok se a loro avviso questa norma decisa dall'altra parte del confine cioè in Italia vada o no in contrasto appunto col nuovo accordo quindi anche quello è un passaggio importante vedremo che cosa verrà risposto un'altra domanda Andrea ma eventualmente azioni legali che chiedano l'abrogazione la cancellazione adesso io non sono un giurista non conosco il termine corretto di questa legge di questa norma di questo pezzo di legge faranno slittare l'applicazione effettiva cioè quindi quando poi dovremo pagare ecco anche questa domanda mi fornisce un altro assist per chiarire un tema importante che è quello della raccolta delle firme visto che in tanti ci hanno chiesto in questi giorni allora azioni legali possibili sono solo i ricorsi ok ma questi li puoi fare quando la norma è attiva cioè tu stato o meglio tu regione mi chiedi di pagare io faccio ricorso contro questa cosa dimostrando che a mio avviso la norma è anticostituzionale o comunque ha delle contraddizioni al suo interno per cui se sarà possibile fare dei ricorsi e nel caso se i ricorsi funzioneranno lo capiremo più avanti nell'immediato in tanti hanno organizzato delle raccolte di firme su questo CST ha inviato i propri soci una newsletter che purtroppo mi accorgo da parte di chi non è associato è stata le volte fraintesa perché c'è il vizio magari di fermarsi alla quinta riga in un comunicato che di riga ne ha 30 e noi non diciamo e lo ripeto che siamo contrari alle raccolte firme siamo assolutamente favorevoli alle raccolte delle firme quindi quei comitati autoorganizzati che stanno promuovendo la raccolta firme possono continuare a farlo ed evidentemente noi non ci mettiamo di mezzo anzi però vanno spiegate bene le cose se l'idea è raccolgo delle firme come è stato detto per far sì che la legge non venga votata è assurdo perché la legge è già in gazzetta ufficiale certo è stata votata in dicembre io ho sentito il referendum raccolgo le firme per fare il referendum ma in materia fiscale non si può fare il referendum né in materia fiscale né in materia contributiva ed è logico però sono furbi i signori del governo non si può sono bravi però al governo ma perché noi abbiamo un compito che è rispondere ai nostri associati se l'associato ci chiede possiamo fare il referendum io ti prendo in giro se ti dico di sì perché per costituzione non è possibile punto quindi ben venga la raccolta firme come segno di protesta come possibilità per manifestare il proprio dissenso ma se la proposta era con le firme per fare il referendum non si può fare non lo dice l'Andrea Puglia lo dice la costituzione dello stato in cui gli stessi frontalieri compreso l'Andrea Puglia vivono esatto bene 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 io ragazzi mi fermerei qua se siete d'accordo se non ci sono altre domande Filippo da parte tua allora anch'io lascerei tutti liberi di consumare la parte restante di pausa pranzo fatemi però prima dire appunto ho condiviso il mio schermo ricordatevi di aggiungere a LinkedIn Andrea Puglia che è sempre meglio avere un santo in più in paradiso così a parte gli scherzi siete sempre informati anche su tutte queste questioni che riguardano i frontalieri vi ricordo di visitare cambiavalute.ch per cambiare il vostro stipendio da frontalieri è conveniente non aspettate in coda lo sportello non dovete parcheggiare la macchina non girate con tutto lo stipendio in contanti che non è mai un'idea molto buona in più se non ci conoscevate già e siete nuovi clienti vi regaliamo la vignetta per il 2024 se siete già clienti potete invitare un amico attraverso all'interno dell'app del sito lo potete fare e guadagnare Andrea grazie mille davvero sei sempre scusa Luca io volevo solo avvisare tutti quelli che hanno scritto sono veramente tantissime domande ragazzi cercherò di prenderle tutte in funzione di quello che Andrea ha detto nel webinar cercherò di rispondervi in maniera privata quindi email o se riesco via messaggio abbiate pazienza ma siete veramente tantissimi grazie per aver partecipato e Andrea noi ti ruberemo di nuovo un po' di tempo perché visto che le cose sicuramente verranno aggiornate in fretta visto tutti questi dubbi e questi punti un po' bui sicuramente riorganizzeremo un altro incontro con te quindi tienici informati quando hai qualche novità noi di nuovo organizziamo uno di questi eventi che è stato davvero seguitissimo quindi insomma direi che è il caso di tenere aggiornati tutti i frontalieri che sono sempre tantissimi e molto interessati grazie a voi di nuovo per l'invito quando volete sono qua sempre disponibile grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri